Nel 2023 sono state superate le 206.000 donazioni di sangue in Toscana, l'1,2% in più rispetto all'anno precedente, oltre 45 donazioni ogni 1.000 residenti solo per la produzione di globuli rossi contro 40 che era l'obiettivo. E nei primi mesi del 2024 la crescita si è fatta ancora più robusta, con donazioni aumentate ulteriormente del 10%, sangue ma anche plasma, il che costituisce un dato incoraggiante visti i numeri in calo durante la pandemia. Il plasma infatti è fondamentale per la produzione di farmaci salvavita come le immunoglobuline, l'albumina o i fattori della coagulazione e l'aumento delle donazioni costituisce una garanzia di cura per tutti i pazienti, oltre alla possibilità di proseguire progetti di cooperazione internazionale in corso. Il 2023 dopo anni difficili può essere dunque scritto come l'anno della ripresa, merito soprattutto della straordinaria disponibilità di 116.000 donatori e della dedizione dagli operatori sanitari. L'89% delle donazioni sono state effettuate da iscritti ed associazioni, una tra le percentuali più alte a livello nazionale. Importante è stata anche la gestione dell'estate, grazie ad una strategia condivisa tra Assessorato regionale, ASL, Associazioni di Volontariato e Centro regionale Sangue, non sono state registrate carenze estive e così non è stato necessario ricorrere all'aiuto di altre regioni. Un risultato dunque che consente di guardare con fiducia alla prossima stagione calda.